. Aida Espica sceglie Getty, due di picche a Jeremias. Aida Espica e Jeremias Rodriguez, largentino vorrebbe andare oltre, ma la showgirl rifiuta. . Aida Espica e Jeremias Rodriguez al grande fratello Vipsi sono avvicinati parecchio creando scompiglio nella casa e fuori. Infatti, il fidanzato della showgirl ha scelto di chiudere la loro relazione, nella scorsa puntata. . Geppi, però, le ha poi mandato qualche segnale, facendole capire di essere pronto ad un chiarimento. . Pertanto, i due sono stati divisi e Aida ha ascoltato le parole di Jeremias. . Questultimo ha confessato di volere più di una amicizia con la Espica. . Eppure, la showgirl non ha intenzione di andare oltre, sebbene tra e due ci siano state diverse carezze. . . Aida conferma di volere un'amicizia con Jeremias. . Il Rodriguez sa che la Espica non è una ragazzina e soprattutto è consapevole del fatto che lei sia fidanzata. . . Nel frattempo, Ilari Blasi informa Aida che il fidanzato Geppi è stato invitato per un chiarimento. . L'uomo, però, ha scelto di non prendere parte alla puntata. . La Espica non si è smossa più di tanto, anzi ha preferito questa scelta. . Geppi decide di non andare in puntata da Aida e Espica, Jeremias Rodriguez si va avanti. . Aida ammette di volere avere un chiarimento con Geppi fuori dalla casa e lontano dalle telecamere. . . Pertanto, ha apprezzato la decisione dell'uomo. . . La Espica chiarisce, ancora una volta, il fatto di volere un'amicizia con Jeremias, nonostante sia passato un messaggio differente. . 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 attraverso il televoto. Dunque, anticipa la Yespica di volerla incontrare fuori. Aida Yespica rifiuta Jeremias Rodriguez, la showgirl vuole il chiarimento con Geppi. Si conclude così la vicinanza tra Aida e Jeremias. Il Rodriguez, infatti, ha lasciato il reality proprio con il televoto. L'argentino già percepisce di essere l'eliminato della serata e così è avvenuto. Fuori dalla casa i due potrebbero avere un avvicinamento futuro. Ancora non si sa come procederà la storia tra Aida e Geppi. La Yespica ammette di voler pensare a se stessa e di vivere dei momenti di grande confusione. Stessa sorte era toccata a Cecilia, la quale però ha preso una decisione precisa, ovvero quella di lasciare Francesco Monte. La Yespica ammette di voler pensare a se stessa e di vivere dei momenti di vivere dei momenti di vivere dei momenti di vivere dei momenti.